Amici, voi che fate con le cipolle spiccate? Le gettate via? Eppure i burbilli sono i suoi germogli e quindi si possono seminare in terreno oppure vaso. La cipolla si può seminare in tre modi. Uno mettendo i semi direttamente nell'orto, due in semenzaio, tre impiantando i burbi in terreno. Dalla mia conservazione di cipolle ho trovato queste germogliate e vado a seminare direttamente i burbilli. Scavo un buco di 7-8 cm nella terra. Poso la cipolla in verticale con la radice in fondo a contatto con la terra ed il burbillo in su. Ricopro il tutto lasciando il burbillo fuori dalla terra. Ed ecco il risultato dopo un mese. A breve si raccoglie.